Cinque case di appuntamenti tra l'Aquila e Avezzano. La Polizia di Stato ha denunciato una cittadina italiana e due sudamericani per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di cittadine sudamericane. I tre avevano organizzato una fiorenta attività economica con tre case di appuntamento all'Aquila e due ad Avezzano nelle quali lavoravano periodicamente giovani ragazze sudamericane. Dietro l'apparente regolarità di contratti di locazione si nascondeva una vera e propria organizzazione gestita e controllata dall'uomo, un cittadino di nazionalità sudamericana, che provvedeva al reperimento delle ragazze con la complicità di una sua connazionale e di una donna italiana. L'italiana aveva il compito di trovare gli appartamenti da adibire a case di appuntamenti. La donna sudamericana si presentava poi come coniuge dell'altro indagato per rassicurare i proprietari e facilitare così la locazione degli appartamenti. La donna poi provvedeva personalmente al pagamento del canone di affitto attraverso bonifici bancari a suo nome. Le indagini hanno evidenziato come gli indagati, dopo aver avviato la prima casa all'Aquila nella zona del Torrione nell'ottobre del 2015, dato il successo che aveva riscontrato l'attività nella clientela maschile aquilana, hanno deciso di aprire altre due case sempre nel capoluogo, nei pressi della villa comunale una e nella zona ovest della città l'altra, estendendo così successivamente il loro business ad Avezzano con l'apertura di altre due case di appuntamento. Il sistema di pubblicizzazione era semplice ed efficace, siti internet specializzati nel settore, annunci su quotidiani abbinati a numeri di telefono da contattare, che cambiavano sempre con l'avvicendamento delle ragazze per mantenere alto l'interesse nei clienti occasionali. Le giovani donne concordavano gli appuntamenti con i clienti e il cosiddetto regalino, che variava dai 50 ai 100 euro. Oltre alle tre persone denunciate, gli investigatori della squadra mobile dell'Aquila hanno completato l'identificazione anche delle numerose ragazze, tutte extracomunitarie, che lavoravano in queste case.